Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi andremo a vedere un materassino da trekking perfetto per chi inizia con il mondo dell'outdoor ma anche per chi ha un'esperienza pregressa nel mondo del bivacco sto parlando dell'MT500 della Forklats, un materassino che si chiude a fisarmonica veramente eccezionale con una valutazione R di 2.2 e davvero una resa termica ottima dato che questa valutazione garantisce che questo materassino può resistere e può isolarti dal terreno a una temperatura di 5 gradi ma vi posso assicurare che sa fare molto di più, infatti io ho dormito con questo materassino a 0 gradi con il suolo veramente veramente umido e mi ha isolato in modo perfetto, senza particolari problemi, anzi veramente ottimo Parlando di materiali, questo materassino è fatto in schiuma espansa, presenta un lato tutto alluminizzato che è quello che si deve frapporre fra il sacco a pelo e il materassino stesso quindi parte alluminizzata sopra, parte blu sotto la parte blu andrà ad isolare il suolo, quindi non farà risalire l'umidità nella nostra schiena e la parte alluminizzata rifletterà il calore del nostro sacco a pelo e del nostro corpo a noi fornendoci veramente un comfort incredibile vi voglio anche dire che a livello di comodità questo materassino lo reputo superiore anche a materassini gonfiate d'aria perché la schiuma è veramente veramente comoda non dico che si può parlare di un letto in memory foam però credo che questa schiuma permetta al nostro corpo, alla nostra schiena diciamo di trovare la posizione giusta e una volta che ci si addormenta io, ragazzi, come un sasso fino alla mattina mentre con quelli gonfiate d'aria, non lo so, fa sempre quell'effetto come se si fosse in un letto ad acqua che un po' ovviamente può dare fastidio di materassini simili a questo sul sito del Decathlon ne esistono altri due che però non sono allo stesso livello di questo sto parlando del Trek 100, un materassino sempre ripieghevole a fisarmonica che però non ha il lato alluminizzato e quindi non ha la stessa resa termica di questo qua l'ho provato e per 5 euro, dato che quello costa 14 euro e questo 19, consiglio questo qua mentre ne esiste un'altra versione che trovate facilmente bastate iscrivete sul sito del Decathlon materassino trekking e vi uscirà per primo quello che è un materassino arrotolabile sempre in schiuma però allo spessore di quelli per esempio che si usano per fare yoga e secondo me non è veramente idoneo per fare dei bivacchi in situazioni dove la temperatura è bassa allora è appunto magari perfetto per l'estate per chi magari vuole solamente un piccolo strato per dividersi, per alzarsi dal suolo che va sempre fatto, io lo consiglio sempre non dormite mai proprio sul suolo con il sacco a pelo se avete la possibilità di portarvi un materassino portatevelo d'estate va benissimo quello che costa mi pare solamente 5 euro A chi sconsiglio questo materassino? Secondo me non è idoneo a chi vuole fare delle ferrate sa che nel percorso appunto dovrà diciamo tra virgolette un po' arrampicarsi perché ovviamente va messo all'esterno del vostro zaino nella parte inferiore, superiore o laterale però appunto potrebbe crearvi un ingombro pericoloso magari può agganciarsi da qualche parte e questo può rendere appunto la ferrata pericolosa in quel caso consiglio sempre un materassino comprimibile e lo zaino bellino chiuso senza niente che penso a destra e sinistra prima di chiudere voglio dirvi a chi consiglio questo materassino e lo consiglio a tutti quelli che vogliono dormire sotto le stelle senza la tenda perché la schiuma ovviamente è un materiale perfetto per dormire sulle roccette e lo è molto di più magari di materassini gonfiati ad aria che si possono bucare ovviamente quindi se intendete dormire guardando le stelle questo materassino è perfetto lo consiglio a chi inizia perché ragazzi il prezzo è bassissimo solamente 19 euro e la resa termica di questo materassino è davvero eccezionale e poi lo consiglio anche a chi magari vuole affrontare cammini lunghi perché se trovate il modo di legarlo allo zaino in modo sicuro e che non vi dia fastidio ragazzi pesa pochissimo quindi non lo sentirete bene anche per questo video è tutto ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video un saluto da Tom Search ciao